radio radicale nuovo appuntamento con le nostre interviste filosofiche oggi siamo in collegamento con francesco paolo ciglia professore presso l'università gabriele d'annunzio di chieti pescara insegna filosofia delle religioni e ora in libreria con il libro la rosa e il perché per una fenomenologia del mistero edizioni ets ben trovato professore grazie ben trovato anche a lei allora professore questo libro si prefissa un obiettivo ambizioso ma realizzandolo con chiarezza con uno stile elegante a tratti anche poetico senza perdere però di rigore filosofico l'obiettivo è quello di tratteggiare l'esperienza umana del mistero cioè di quella domanda sempre aperta sottesa all'intera esperienza umana quella domanda di senso non quantificabile non commisura commesurabile commensurabile scusate non completamente razionalizzabile che accompagna ogni nostra esperienza senza però poter mai essere soddisfatta senza mai poter essere esaurita da alcuna nostra esperienza quotidiana il mistero si annida lo si legge nel suo libro nella quotidianità orientandola in qualche modo riempiendo quelle linee di faglia quelle fratture quelle discontinuità che si aprono fra le nostre esperienze fra i significati che attribuiamo alle nostre esperienze lei descrive la nostra la nostra esperienza mondana la nostra quotidianità la nostra vita normale il normale corso della nostra vita come una pluralità di regioni come una pluralità di orizzonti di significato che si intersecano che talvolta si sovrappongono che talvolta si aprono lasciando scoperti degli interrogativi sotto queste sotto tutte queste dimensioni che danno concretezza che situano in maniera storica e materiale la nostra vita in senso fisico in senso biologico in senso chimico ma anche in senso culturale penetrando anche la nostra corporeità lei descrive la nostra fisionomia la no le nostre parole noi veniamo al mondo quindi già preceduti da una pluralità di normatività di logiche di regioni dotate di una propria consistenza semantica che è quanto più esaustiva senza però essere mai davvero integrale sempre parziale ecco proprio su questa pluralità di regioni logiche voglio farle la prima domanda si tratta di dimensioni ontologiche cioè di principi di logiche ontologiche o di bolle epistemologiche che dunque hanno una loro storicità una loro geografia culturale lei lo chiama multiverso cosmico esistenziale di che cosa si tratta allora intanto già da quello che mi ha detto finora si capisce bene che lei ha letto con molta profondità e con molta attenzione il mio testo e di questo la ringrazio insomma ha toccato una quantità già in questa piccola introduzione di questioni veramente cruciali se vuole possiamo cominciare dall'ultima domanda oppure risalire un po all'indietro o quello che lei ha detto all'inizio no adesso dal punto di vista forse passiamo dalla dalla domanda avere partiamo dalla domanda vera e propria no io ho voluto usare in maniera un pochino provocatoria questo neologismo multiverso per un motivo molto semplice anche per scuotere il lettore insomma che cosa significherà diciamo è anche una strategia retorica teatrale se se lei vuole no chiaramente il termine multiverso esemplato sul termine molto più comune e di uso quotidiano universo no ecco l'idea è questa che allora intanto bisogna dire che il volume è una è un tentativo di esplorazione della nostra condizione umana all'interno dei grandi scenari anche cosmico naturalistici entro cui questa avventura umana si si dipana ecco questo questi scenari enormi e grandiosi sono in qualche modo contrassegnati da una molteplicità di strutture diverse di dinamiche diverse di economie diverse che di primo acchito non possono essere ricondotte ad unità perciò non voglio parlare di universo no risalendo all'etimologia della parola universo significa rivolto in una sola direzione in realtà la nostra esistenza è diretta in una molteplicità di direzioni spesso divergenti che non si lasciano pacificamente conciliare in una visione unitaria qui nasce un problema enorme non voglio disconoscere non posso non voglio disconoscere assolutamente il fatto che l'essere umano è contrassegnato da questa tensione verso l'uno altrimenti andiamo nella frantumazione della persona della coscienza dell'io no e questo non è qualcosa di augurabile no quello che io quindi riconosco questa tensione verso l'unum no che poi è un tema caratteristico della storia della filosofia da dalle riflessioni sull'archè presocratica in fondo cercavano una unità che potesse in qualche modo come si può dire non dico spiegare o fondare l'universo ma a cui l'intera molteplicità della nostra esperienza potesse essere ricondotta ecco quindi questo questo è quello che è quello che dicevo quindi questa tensione verso l'unità è tipicamente umana e irrefrenabile e imprescindibile dobbiamo in qualche modo dare una soddisfazione quello che io voglio stigmatizzare col termine di multiverso è che questa tensione verso l'unità non può non deve appagarsi di riunificazioni frettolose comode che ci mettano subito in pace perché altrimenti si cade nel riduzionismo e quindi il termine multiverso vuole dire che questa nostra ricerca dell'unità che è irrinunciabile è sempre una tensione aperta sofferente molte volte no posso usare una metafora se mi è concesso immaginiamo di avere su un tavolo 500 perline piccolissime no e noi volessimo afferrarle con una mano no è chiaro che le perline scappano da tutte le parti non ci riusciamo allora ci può venire l'idea di prendere un filo sottile dove infilare una per una queste 500 perline e essi possono tenere con due dita diciamo in questo filo il problema è che nella nostra esistenza non è così semplice che queste 500 perline continuamente diventano 5.000 10.000 milioni no e il filo non regge più e allora che cosa accade che noi siamo chiamati continuamente a tessere e ritessere questo filo che rimarrà e questo discorso resterà aperto finché resteremo all'interno della condizione umana insomma questi nostri tentativi di attribuire significato all'interno di quelle che lei descrive come delle regioni con una loro normatività con una loro logica è appunto una condizione di ricerca sempre aperta lei diceva anche sofferente insomma fra queste regioni ci sono delle fratture poi perché non si arriva mai davvero una a una collana di perline coerente e integrale e soddisfacente in queste fratture i significati che solitamente diamo alla realtà che ci circonda rimangono sospesi o diventano inefficaci sono quei momenti che lei descrive come dissemici cioè in cui la semantica così coerente così funzionale in tempi normali va in frantumi aprendo delle domande qualitativamente molto diverse rispetto a quelle che ci poniamo nel corso della nostra quotidianità sono momenti anomali in cui qualche cosa si distrugge qualche cosa si rinnova momenti in cui l'intera somma di significati che possiamo accumulare nel tempo ordinario non basta a colmare la straordinarietà delle domande che si impongono che cosa avviene in questi momenti allora guardi per usare un linguaggio diciamo molto comune in alcune correnze della psicoterapia contemporanea che io sono molto attento a questi ambiti di ricerca perché hanno a che fare con l'uomo insomma l'uomo interessa moltissimo anche il filosofo cioè accade che nella nostra vita noi costruiamo come si può dire delle strutture significative che cercano di tenere insieme le esperienze ma poi incappiamo in esperienze indigeribili inassimilabili che rompono i nostri schemi no questi momenti sono momenti insieme tragici e providenziali tragici perché ci crolla addosso il mondo no noi ci imbattiamo in qualcosa che contrasta fortemente con le nostre costruzioni semantiche no di fronte a questo possiamo disperarci possiamo possiamo pensare che tutto è perduto possiamo però possiamo anche approfondire lo sguardo e pensare che in definitiva forse i nostri schemi vanno in qualche modo rimodulati rimodulati da capo no e ma questo discorso è un discorso strutturale un discorso non semplicemente temporaneo come se un giorno arrivassimo diciamo a una a una completezza non solo ma questi momenti di crisi ci invitano ad un salto che è un salto ontologico un salto esistenziale un salto oltre le scenografie quelle che io chiamo le scenografie regionali e questo questo salto ci ci apre gli orizzonti del mistero cioè allora fino a quando noi nella nel nostro tran tran quotidiano in questo brusio di voci che costituisce il sottofondo della nostra quotidianità tutto gira tutto va bene il meccanismo è oliato poi quando arriva qualcosa che rompe allora noi siamo costretti a fare un passo indietro a vedere il mondo la nostra esistenza le altre persone l'universo a un passo di distanza e lì subentra lo stupore la meraviglia che può diventare orrore può diventare uno stupore positivo no ecco lì in quel momento noi ci distanziamo dalla routine quotidiana questo non significa uscire dall'esistenza perché l'uomo non può uscire dalla sua esistenza ma è una caratteristica paradossale dell'esistenza umana quella di riuscire a distanziarsi da se stessa senza uscirne ecco io faccio sempre un esempio quando per esempio un rapporto affettivo molto profondo entra in crisi no un rapporto che ha girato benissimo per per anni e anni entra in crisi ecco allora io faccio un passo indietro e dico ma chi è quest'altra persona che ho davanti no che cosa stiamo facendo insieme no e qui si apre un orizzonte diverso ecco lei parlava all'inizio che questo ci chiediamo il problema ci poniamo il problema del senso che è diverso dal problema dei significati mondani ma il problema del senso non è lei diceva giustamente quantificabile commensurabile razionalizzabile questo non significa che siamo condannati alla irrazionalità ma penso che molto più umilmente molto più umilmente anche molto più criticamente dobbiamo riconoscere che la razionalità che io chiamo regionale quella che vige nei diversi settori del nostro tran tran quotidiano non è l'unica razionalità possibile ma forse ci sono altri tipi di razionalità e poi la radicalizzazione di questa domanda ce l'ha fornita il grande leibniz a solito al suo tempo e non è una domanda che ci poniamo tutti i giorni però ci capita di dire ma perché c'è qualcosa e non piuttosto il nulla no ecco allora tutto l'universo del del noto del consueto ci sembra ci sembra strano la meraviglia questo è il saumaze in filosofico no perché esiste qualcosa come strano il mondo no lo dice questo questo è l'elemento diciamo più specificamente umano presso il quale l'uomo non posso stare tutta la sua vita ma appunto come dicevamo in momenti particolarmente perturbanti ecco l'uomo incontra questo momento questa riflessione sul senso poi c'è chi lo fa di mestiere il filosofo lo fa di mestiere quindi riflette su questo senso più integrale qui tra le fratture della razionalità mondana della razionalità che lei dice regionale delle logiche quotidiane si annida abbiamo detto il mistero un mistero che lei riconosce essere anche avere anche un versante religioso sacro ma che in prima dimensione in primo luogo ha una dimensione mondana laica sebbene sfugga a qualsiasi fenomenologia le si voglia applicare però una prima chiave d'accesso al mistero è fornita secondo lei proprio dalla fenomenologia l'intuizione fenomenologica quindi la domanda è che cos'è l'intuizione fenomenologica e più in generale quale forza penetrativa può garantire la filosofia e quali limiti invece deve riconoscere la ragione umana al contatto col mistero per interrogarlo senza snaturarlo cioè lasciandolo essere mistero lasciandolo essere nella sua diciamo così non irrazionalità ma in qualche modo alterità ecco dunque questo è il punto nodale del discorso uno dei poi infatti il sottotitolo del nel mio volume si intitola appunto per una fenomenologia del mistero allora prima di arrivare al punto io vorrei fare una piccola parentesi giocosa diciamo così lei ha detto giustamente una cosa molto profonda che noi non possiamo sostare perennemente di fronte a questo mistero altrimenti non viviamo noi dobbiamo risolvere il problema di mangiare bere riposarci curarci dalle malattie io mi ricordo una bellissima vignetta vista da un umorista di cui non ricordo il nome e c'è la scena di una piccola famiglia dentro un'utilitaria e il papà guida ci sono tre bambini dietro la moglie a fiammi sono in una marea di traffico sono in un ingorgo stradale il padre è nervosissimo non sa come uscirne e una voce da dietro uno dei bambini chiede al padre papà ma noi chi siamo da dove veniamo dove andiamo è chiaro che è una domanda inopportuna noi dobbiamo uscire da questo ingorgo e stiamo pensando a queste cose lei dice che il filosofo fa di professione a me vengono un po i brividi perché nel senso che anche se il filosofo è portato a formalizzare in senso tecnico tecnico razionale queste domande ma il filosofo è un uomo come un altro quindi è altrettanto nudo di fronte a queste domande come tutti gli altri uomini non ha la risposta nel taschino no quindi è bene formalizzare queste domande formularle in chiave filosofica che poi è una cosa anche un po' per addetti ai lavori ma è una questione universalmente umana come appunto anche diceva lei no allora io insisto sul fatto che questo mistero questo mistero del tutto della totalità che ci avvolge questo è un mistero radicalmente laico nel senso che non può non inquietare interessare chiunque qualunque siano le settentenze religiose che sia che sia interessato o meno a questioni religiose no cioè questa domanda la domanda sul senso globale della nostra esistenza che ci dischiude un mistero perché è una domanda alla quale non abbiamo una risposta così da monetizzare facilmente no questa domanda non può lasciare indifferente nessuno non è una domanda che riguarda solo uomini pi religiosi diciamo abituati a frequentare sacristie ma insomma lei crede che che chiunque può credere forse che sapere che la nostra vita umana ha un senso o meno sia una cosa differente ma insomma stiamo scherzando no ecco quindi questa è la domanda fondamentale che poi gli uomini impostano questa domanda la organizzano nei modi più diversi no in modi che potremmo definire laici no in modo cioè la domanda è profondamente laica perché profondamente umana cioè perché esistiamo no dove stiamo andando da dove veniamo qual è la nostra identità questa domanda può anche assumere una curvatura religiosa nell'ambito nell'ambito della della interrogazione sul sacro e sul santo ecco lì ho fatto tutta una questione sul sacro e sul santo si si compie un passo particolare che non tutti gli uomini sono chiamati a compiere cioè il tentativo di stabilire una relazione certe volte personale coinvolgente con questo mistero io il mistero posso contemplarlo lasciarlo lì goderlo nell'apparizione la sua apparizione estetica no la rosa lo splendore della rosa posso interrogarlo criticamente nella filosofia ma posso anche fare un altro passo cercare una relazione con ma con questo mistero si potrà mai parlare lui potrà rispondermi io potrò dirgli ecco questo a questo punto siamo a livello del sacro del santo e delle sue organizzazioni religiose però la domanda verteva soprattutto sul rapporto tra fenomenologia del mistero allora il tema della fenomenologia del mistero sembra un ossimoro no perché se fenomeno fenomenologia fare fenomenologia significa mettere in luce portare alla luce la metafora visiva è molto forte nel pensiero di Husserl no ma fenomenologia allora se è fenomenologia come può essere fenomenologia del mistero che quanto di più oscuro possa esserci no e se il mistero è veramente mistero non sarà per caso distrutto dal raggio fenomenologico quindi sembra una contraddizione di termini fenomenologia del mistero se fenomenologia non può essere del mistero se è vero mistero non se ne può fare una fenomenologia e questa è un po' la provocazione del mio libro in realtà io penso che la fenomenologia che ha una lunghissima storia risarente a platone poi cartesio insomma Husserl fino ai giorni nostri ha gli strumenti per trasformare per trasformare le asperità dei fenomeni in opportunità positive io posso dire questo fenomeno che mi si presenta un fenomeno oscuro appresenta dei lati diciamo intrattabili posso dire allora rinuncio oppure questo non è un fenomeno che può essere studiato filosoficamente oppure posso dire come fanno i fenomenologi che proprio queste asperità costituiscono un modo di darsi del mistero e quindi una caratteristica positiva e mi apro queste asperità queste difficoltà di approccio mi aprono l'orizzonte di una possibile confronto filosofico allora io nel mio libro faccio due cose di fronte al mistero prima di tutto cerco di cogliere il modo di darsi anche se io non riesco a penetrare negli anfratti più profondi del mistero che sennò poi non è più mistero però posso studiare il modo in cui il mistero si dà e poi una seconda cosa questo mistero che si dà quale figura assume e io ho dato così una risposta una proposta di risposta il mistero si dà nella figura della gratuità che si contrappone all'economia l'economia normativa delle 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 regioni delle scenografie regionali e assume la figura della differenza e della differenziazione ma il mistero resta perché io non non potrò mai rispondere a due domande ma perché il mistero si dà nella forma della gratuità e non per esempio in una forma completamente diversa perché il mistero assume la forma della differenziazione e non un'altra ecco io a questo punto devo dismettere la come si può dire atteggiamento fondativo che contrassegna ogni ricerca filosofica e devo diciamo umilmente mettermi di fronte al mistero studiarlo come posso cercare di afferrare quello che è possibile afferrare come diceva Kant in albergenzender blosse inferno cioè all'interno dei limiti della sola ragione ma senza avere la pretesa di essermi messo in mistero nel taschino e dire ed ecco adesso ormai abbiamo capito tutto no ecco quindi una fenomenologia del mistero non vuole sciogliere il mistero ma vuole auscultarlo umilmente discretamente delicatamente per cogliere qualche riflesso che per il pensiero rappresenta una provocazione estremamente positiva perché se il pensiero pensa soltanto se stesso e beh è una specie di monologo è una specie di come si può dire atteggiamento autoreferenziale ma la grande sfida della tradizione filosofica occidentale è sempre stata quella di pensare l'altro rispetto al pensiero no pensare un essere che non si riduca a pensiero se togliamo questa differenza tra l'essere il pensiero abbiamo distrutto tutto insomma è un pensiero monologico autologico no di cui non sappiamo che farcene insomma prima il riferimento al non possiamo sostare in prossimità della domanda del mistero sul mistero in maniera indefinita era un vago riferimento a per esempio la filosofia di Giorgio Agamben che ha come destinazione l'erranza in quanto tale come destinazione davvero umana e sciolta invece dalla realtà fenomenica quindi come come dimensione di salvifica oltre questo mondo ma in questo mondo noi dobbiamo starci e infatti leggendo il suo libro noi mi veniva in mente l'immagine platonica dell'animale bipede dell'uomo come animale bipede cioè di quell'animale che alzatosi sui due piedi si libera della prospettiva limitata al terreno che ha sotto il muso per aprirsi a una visione panoramica è quella che la filosofia morale chiama la capacità trascendentale cioè quella capacità che ha l'uomo di collocare gli aspetti determinati della propria esperienza in un orizzonte più ampio che l'uomo non riesce forse mai ad abbracciare interamente ma nel quale può mettere in relazione può prendere distanza può comprendere lei declina questa natura umana questa definizione per quanto siamo sospettosi nei confronti di delle definizioni delle implicazioni politiche che da esse derivano lei la declina nella dimensione della alimentazione ce ne vuoi parlare sì allora proprio partendo dal tema dell'alimentazione che per me è fondamentale no nella mia tradizione nella mia prediletta tradizione ebraica che sono uno studio non sono di origini ebraiche ma sono appassionato dell'ebraismo spesso ho filtrato ho filtrato diciamo la messaggio dell'ebraismo questa grande stagione culturale spirituale attraverso autori francesi quindi adesso mi viene una citazione in francese c'era levinas che una volta citava un rabbino che diceva gran e le mangi e il mangiare è una cosa grande no e poi diceva anche l'uomo che mangia è l'uomo più giusto di tutta la terra no e perché il mangiare è qualcosa diretto allora volevo intanto precisare una cosa questo animale bipede che ai piedi piantati per terra non si staccherà mai da questa terra no allora la corporeità è un avamposto detto io dell'umano all'interno diciamo della della materialità naturalistica ma non nel senso che l'uomo si liberi di questa materialità ma nel senso che la sovradetermina cioè fa compiere a questa animalità una una svolta radicale che non non cancella la materialità ma la porta a un altro livello e faccio un esempio molto concreto il neonato dei primissimi giorni che è una figura che mi ha sempre affascinato anche per esperienze personali no vedendo proprio come un bambino di pochi giorni e che si attacca al seno materno inconsciamente istintivamente che cosa cerca cerca l'alimentazione cerca la nutrizione l'istinto lo poi lo stomaco vuoto le urla della fami morsi della fame lo portano a cercare il seno con la o i sostituti del seno il bibbero ma mentre l'essere umano neonato cerca l'alimentazione trova molto alto trova una relazione io trovo che la stessa anatomia umana sia pure la parola metafisica no nell'uomo il seno materno è collocato fisicamente a un palmo dal volto della madre per esempio se lei prende un vitello che 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 beve che beve il latte e succhia il latte dalle mammelle della madre diciamo che la testa della madre è lontanissima dal dal dalle mammelle no per cui il vitello beve il latte succhia il latte basta invece il neonato umano comincia a succhiare il latte poi comincia ad alzare gli occhi e incontra un volto e questo incontro col volto è un evento fondamentale che dà una svolta radicale alla sua vita perché comincia una relazione e l'inizio della spiritualità all'interno della della materialità chiaro che poi si avrà sempre bisogno di mangiare no non è che ci porti che diventiamo degli esseri spirituali ma allora all'inizio il neonato non riconosce il volto no il volto materno ma poi col passare del tempo comincia a metterlo a fuoco e questo dà una svolta perché il volto apre la strada alla parola no e qui e qui diventiamo uomini restando pienamente animali in questa sintesi straordinaria insomma tra tra umanità e animalità che solo l'essere l'essere umano possiede no e quindi penso che appunto l'alimentazione giochi però questo è solo un aspetto della sovradeterminazione che l'essere umano poi si trova a compiere della sua animalità per esempio pensiamo all'eros alla sessualità no che io non ho trattato no i miei autori l'hanno molto trattato per esempio affascinante la trattazione che levinas da dell'eros fin dal tempo e l'altro no ma anche questa e potremmo citare centomila altre strutture dell'animalità che in qualche modo poi si trasfigurano nel senso della razione relazionalità no una una corporeità in cui l'uomo rimane radicato ma dalla quale l'uomo si fa uomo veramente accede alla dimensione antropologica e da questa la trascende verso il mistero professore abbiamo terminato il nostro tempo come si può fare in mezz'ora abbiamo potuto fare solo un sorvolo delle tematiche contenute in questo libro la rosa e il perché che guardate è un libro davvero filosofico nel senso più nobile e più intenso di questo di questa parola è un libro che abbiamo appunto di cui abbiamo tratteggiato i temi ma che va approfondito va letto va messo va messo a frutto attraverso la riflessione e un confronto franco e sincero professore la ringrazio per la disponibilità e per la chiarezza con cui ci ha parlato di del suo libro grazie a lei per l'attenzione per l'invito che ho accolto con molto con molta gioia diciamo così e ringraziamo i radioascoltatori e un saluto alla prossima arrivederci